Due anni fa, prima del match di Coppa Italia tra Catanzaro e Virtus Francavilla, Calabro chiese espressamente alla dirigenza giallorossa di portare dall'altra parte della barricata Alessandro Caporale e Leonardo Perez, un tentativo anche di disturbo quello dei calabresi che non piacque gli imperiali soprattutto ridosso dello scontro diretto del Ceravolo, finito poi 2-1 in favore dei padroni di casa. Oggi Calabro ritrova nella propria rosa quei due tasselli che avrebbe voluto in giallorosso nell'annata che chiuse comunque il secondo posto in classifica e a questo punto, facendo 2-2, verrebbe da definire quasi scontata la permanenza dei due veterani del gruppo a Francavilla-Fontana. Le prime riflessioni sono già partite, se il difensore è un pilastro del progetto ed è pronto a restare dopo aver rifiutato più destinazione nel corso degli ultimi anni, Perez potrebbe essere una soluzione offensiva in più per Calabro, il mesagnese cerca il rilancio dopo una stagione tormentata dagli infortuni e per personalità e leadership, è uno di quei calciatori che piace all'allenatore Salentino, deve valutare invece che ne sarà di Patierno che in Biancazzurro ha trovato la sua dimensione, ma che in campagna accostano con frequenza all'Avellino il richiamo di Taurino. Suo mentore è forte, ma la Virtus non fa sconti e soprattutto non ha alcuna intenzione di privarsi del suo numero 9.